Il regista franco italiano Franco Contini girò nel 1972 un film documentario su Cesare Pavese. Durante la lavorazione incontrò in un albergo di Torino Pasolini. Gli chiese una breve intervista su Pavese da inserire nel film, ma nessuno la vide mai, perché Pasolini fece di Pavese una sonora stroncatura. Al vostro giudizio se davi torto o ragione o se, scambiando i ruoli in un gioco trasgressivo, non si possa dire anche di Pasolini quel che lui disse di Pavese. Pia Paolo Pasolini, lei è il famoso romanziere, il famoso cineasta che tutti conosciamo e amiriamo e vorrei che ci dica che cosa Pavese è stato e cosa è ancora per lei. Penso che lei mi chieda un giudizio sull'opera di Pavese. In conclusione, io direi che ogni giudizio critico all'inizio è sempre assiologico, cioè consiste sempre in un sì o in un no. Su Pavese il mio giudizio è no. Da sempre, da quando ho cominciato a leggere che ero quasi ragazzo. E del no non tanto perché non lo considero un grande scrittore, del no perché lo considero uno scrittore medio, uno scrittore che non va oltre la media di uno scrittore italiano. E nessuna opera per lei va salvata da questo giudizio? No, per me Pavese è uno scrittore, un letterato medio italiano, nessuna opera va oltre questa linea media o addirittura mediocre. E Pavese è stato a sua epoca uno scrittore impegnato, come si dice, e sappiamo che anche lei si occupa molto di politica, diciamo. E da questo punto di vista cosa pensa dell'impegno di Pavese? Ah, l'impegno di Pavese è stato molto corretto. In quegli anni era facile avere un impegno politico corretto perché consisteva soprattutto nell'essere antifascisti e immediatamente dopo la guerra consisteva nell'adeguarsi ai valori nati dalla resistenza praticamente. Era l'inizio di quell'epoca che si è chiamata l'epoca dell'impegno letterario. A quel punto era facile, il suo impegno politico è stato corretto. E forse da questo dipende dalla sua fortuna, che è un scrittore che non suscita grandi problemi, né letterari né politici. E cosa pensa adesso che Pavese rappresenti per, insomma, nella cultura italiana oggi? Ma nella cultura italiana quella viva, operante, si per setta, non rappresenta molto. È al suo posto, è ben catalogata in una storia della letteratura italiana contemporanea perché, ripeto, è uno scrittore medio e mediocre, però assolutamente rigoroso e non è mai avvenuto meno la sua morale letteraria. Ecco, questo bisogna assolutamente ammetterlo. Ma per quel che riguarda la popolarità, la letteratura intesa come consumo popolare, Pavese continua ad avere una certa rilevanza sempre. Anzi, direi che, soprattutto in provincia, verso l'elite culturali della provincia italiana, guai non fare subito il nome di Pavese, è una specie di distintivo che uno ha all'occhiello e che lo distingue dalla massa che non conosce Pavese, insomma, è una specie di vanto che uno si fa. E, particolarmente, i giovani, chiamo giovani quelli nati dopo il 68, insomma, quelli nati culturalmente dopo il 68, leggono Pavese o no? Ma io ho l'impressione che il 68 abbia dato un brutto colpo alla letteratura, a tutti i livelli e a tutti gli autori, e che anche Pavese abbia un po' traballato dopo il colpo inferto del 68 alla cultura italiana. Però continua davvero quella funzione che le dicevo, cioè, soprattutto in provincia, un giovane provinciale, anche di 18-19 anni, fa il nome di Pavese come se fosse un distintivo, ecco, che lo lega ai centri, ai centri culturali, quali si guardano bene dal deluderlo perché temono l'impopolarità. La ringrazio molto.